Come tutti sappiamo negli ultimi decenni buona parte dei paesi europei ha abbracciato un modello di forze armate esclusivamente professionali. L'Italia appunto come altri nostri partner europei ha scelto a partire dal 2005 di avere delle forze armate composte esclusivamente da volontari professionisti. Una scelta che personalmente ai tempi salutai anche con un certo entusiasmo perché mi sembrava andare nella direzione di un'ottimizzazione di investimenti in ambito militare e di puntare sempre più ad avere personale dotato di una preparazione d'eccellenza in grado di affrontare le sfide di oggi. Lo scenario ucraino però impone di fare delle riflessioni e di chiederci effettivamente se questo modello esclusivamente professionale sia appunto poi in grado di reggere gli urti di questi nuovi conflitti che hanno delle dimensioni per certi aspetti inaudite, quantomeno per quello a cui siamo stati abituati dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Ne parliamo oggi col generale Salvatore Farina del centro studi dell'esercito, già capo di stato maggiore dell'esercito stesso col generale Giorgio Battisti del centro studi Machiavelli e con l'ingegner Favero dell'Associazione Nazionale Alpini generale Farina se vuole darci insomma un po' la sua prospettiva sulla appunto questo ritorno a dei conflitti e delle guerre di proporzioni insomma difficilmente immaginabili fino a pochi anni fa. Sì, grazie intanto. Una delle lezioni ammaestramenti del conflitto in Ucraina è sicuramente l'alta intensità, la simmetria, la durata e quindi le risorse in termini di personale, soprattutto la cosa più importante, le perdite in genti ci sono state da ambo le parti, quella di risorse logistiche, di mezzi ed equipaggiamenti eccetera eccetera. Quindi si è un po' rimasti sorpresi per tanti aspetti perché dice allora ci voleva un esercito di massa, allora ci vuole un ritorno per così dire al passato tant'è che alcuni hanno evocato quasi immediatamente già dei vecchi ritornelli dicendo beh allora dobbiamo ritornare alla leva. Quindi su questo tema ci sono state varie prese di posizione secondo gli orientamenti politici o culturali e sociali che chiaramente hanno visto spesso una dialogica e un dibattito sterile fatto più di campanilismo che non di sostanza. Allora io direi che la domanda che dobbiamo farci è questa oggi. L'attuale struttura dello strumento militare italiano perché poi dopo gli ammaestramenti devono ricadere su quella che è la nostra realtà, cosa possiamo fare per affrontare le attuali e anche soprattutto le future sfide. La domanda è lo strumento militare della difesa italiana nel suo complesso è idoneo a rispondere alle tante sfide, alle tante emergenze? Allora questa è una domanda pratica al di là dei vari campanilismi, l'esercito di massa, leva sì, leva no, professionisti sì, professionisti no. Allora la risposta è che no, non è in grado di rispondere alle attuali, alle future sfide, alle tante emergenze, senza citare il covid, ma pensiamo ai terremoti, alle alluvioni, ma soprattutto a rispondere alle emergenze di sicurezza, di guerra, di conflitti che ci sono in ogni parte del mondo. L'Italia in particolare, più di tutti, anche dell'Ucraina se posso dirlo, è circondata da conflitti. Quindi passiamo con tutto l'arco di cui si parlava prima, il famoso Mediterraneo allargato o comunque tutta l'area sud ed est della nostra regione del continente europeo e vediamo questo. E quindi crisi che poi incidono direttamente o indirettamente sulla sicurezza e anche sul benessere del nostro paese. Quindi siccome non è in grado di dare delle risposte, cioè non è sufficiente lo strumento perché questo qui ricordo è stato ridotto nel 2012, quando ancora c'era il dividendo più o meno della guerra fredda, dopo un po' di anni, era passato anche il 2001, quindi c'era diciamo una certa situazione, non c'era ancora stata l'invasione, l'annessione dell'Ucraina, della Crimea scusate, e poi anche l'insorgenza nel Donbass. Quindi si era in un periodo in cui dice bene adesso i famosi 190.000 sono stati ridotti a 150.000. Per fortuna la legge che poi è stata approvata nell'agosto dello scorso anno, da 119 al 5 agosto del 2022, ha previsto un ritorno all'indietro, non alla leva ovviamente, ma ha previsto una mitigazione di questa riduzione per far sì che almeno nelle dotazioni delle tre forze armate ci fossero 10.000 persone in più come professionisti, ma a questo ha aggiunto anche una cosa importante, che si prevede una riserva ausiliaria dello Stato, pari a circa 10.000 uomini da impiegare in emergenze non solo naturali, regionali, diciamo in tempi di pace, da catastrofi naturali, ma anche eventuali per rinforzo in caso di conflitti. E questa è una importantissima novità che apre un quadro nuovo, un quadro delle riserve, un quadro che poi penso parlerà dopo di me il generale Battisti, forse in modo più approfondito, però quello che voglio dire è che bisogna iniziare, c'è questa possibilità, cioè i governanti di allora, quindi del governo precedente, qui non facciamo campanilismo e non è neanche mio uso e costume, chi ha fatto bene, chi ha fatto male, il governo precedente o i governi precedenti hanno previsto questa legge delega nell'agosto del 2022 e l'attuale governo ha pensato bene di portarla avanti, quindi c'è una solida base, quindi l'esigenza è ben riconosciuta, c'è una chiara esigenza, una solida base anche politica che sostiene questo e quindi a questo punto benvenga, iniziamo con questa riserva ausiliaria dello Stato. Allora dice come fare? Beh ci sono tanti modi, è ovvio quindi scartando il fatto che nessuno è obbligato, quindi quando in Italia si obbliga a qualcosa tutti quanti si oppongono per principio, facciamola all'inverso, un po' questa riserva ausiliare potrebbe essere alimentata da coloro che è fatto servizio e saranno veramente pochi a non rimanere professionisti nell'esercito, con volontari tre anni, più tre anni ci sarà una minima percentuale, ma quindi un po' la potranno alimentare con questi, ma perché non consentire a dei giovani, cittadini, uomini e donne, italiani su base volontaria di fare un'esperienza con le armi al servizio della patria? Quindi non è una limitazione della libertà personale, si può fare? Sì, allora se si può fare ci sono dei modi per farla, poi lo Stato Maggiore ne studierà come e quanto, però sicuramente potrebbero essere dopo due o tre mesi di intenso addestramento puoi prevedere dei richiami annuali di 15-20 giorni, tutto quanto e degli impieghi anche in caso di emergenza, come? Ci sono tante soluzioni, una per esempio è su base regionale, dove ma non facciamo caserme nuove, non impiantiamo cose nuove, c'è già un esempio molto importante, Battaglione Vicenza all'Aquila, è un reparto dedicato e solo o comunque ben orientato alle catastrofi naturali, terremoti, emergenze varie eccetera sul nostro territorio, che è gemello affiancato all'altro battaglione alpini da combattimento che sta nel nuovo reggimento lì, beh perché non farlo uno per ogni regione, per esempio, e poi alla fine guarda caso per 20 farebbero proprio 10.000, tanto per essere chiari, di cui sicuramente ne abbiamo bisogno, ma non solo per le catastrofi naturali ma anche per eventuale combattimento. Ora lo facciamo domani tutto insieme, ma io penso che bisogna andare anche passo passo e per gravi, iniziamo con una sperimentazione, qui c'è il Presidente dell'ANA che parlerà dopo dell'Associazione Nazionale Alpini, ma sicuramente, e io sono un fermo sostenitore di questo, se si consente su base volontaria di fare un esperimento su uno, due reggimenti, uno a due regioni a partire dal prossimo anno, questo per quanto riguarda l'esercito, altre forze armate avranno altre esigenze a seconda delle loro peculiarità, beh questo si può fare. È una riserva anche di grandi dimensioni alla fine, può arrivare anche a 30.000, a 60.000 se le condizioni di sicurezza andranno via più a peggiorare, ma se non si comincia e non si capirà mai come ben strutturarla. Quindi io su questo punto sono uno streno fautore di questo, credo che con un'emissione anche ogni anno bastano 2-3.000 di questi volontari che provengono da chi non ha poi proseguito la carriera dell'esercito e in ottima parte anche dai giovani civili che volontariamente vogliono fare questa esperienza, alla fine dopo 10-15 anni avremo 30.000 persone come riservisti. Ma saranno in grado di combattere? Beh, prima di andare a combattere se c'è proprio la necessità faranno un'ulteriore preparazione e aggiornamento di n settimane e n mesi, però non sono da inventare to cure e sono poi chiaramente anche dei soggetti con status militare cui garantire anche una certa riconoscenza da parte del Paese per questa predisposizione. Quindi come detto ci sono le possibilità di farlo e credo ci siano anche le condizioni politiche, se permettete, per avviare un processo del genere. Io mi fermo qui come spunto e spero anche di dare un passaggio, un assist sia al generale Battisti che al presidente dell'Associazione Nazionale degli Alpini perché credo, specialmente per l'esercito, consentitemi, è una questione importantissima perché è stato decurtato molto rispetto al taglio che c'è stato nel 2012 e i nostri uomini e donne sono schierati in operazioni e anche sul territorio italiano, sanno sempre rispondere a tutto però hanno bisogno anche di un ricambio e di una capacità di agire sempre con forze fresche. Grazie. Ringrazio il generale Farina e invece al generale Battisti chiedo, la guerra in Ucraina ci ha insegnato che le guerre si vincono con la tecnologia, con le risorse, con la superiorità aerea ma si vincono anche con gli uomini e laddove mancano gli uomini, laddove manca la truppa non sempre è facile o è possibile compensare appunto con gli ultimi ritrovati della tecnologia. Quindi proprio da questo punto di vista come vede la situazione delle forze armate italiane e in che direzione dovremmo andare appunto per colmare quei gap, quei punti deboli di cui ci parlava il generale Farina. Buon pomeriggio a tutti. Devo dire che la guerra sostanzialmente è un problema aritmetico di numeri, al di là di tutto, in sintesi. Noi, come è già stato detto nel precedente panel, noi pensavamo con la fine della guerra fredda che non ci fossero più conflitti di carattere classico, tradizionale, modello 900 comunque. Ma in realtà ci siamo svegliati un paio d'anni fa e abbiamo scoperto che siamo ritornati pur con tutta questa tecnologia alla guerra di Trincea. Siamo tornati al piede di Trincea che si macera, stando specialmente d'inverno. Abbiamo scoperto che queste operazioni ipertecnologiche sono soprattutto una questione di numeri, di numeri di soldati. Perché basta seguire un po' le cronache dei due eserciti che si contendono il Donbass, entrambi in modo più o meno palese richiamano uomini e richiamano donne. Bene, circa il 30% dei militari ucraini oggi sono donne, per esempio, stanno anche reclutando quelli incinta fino a che messe. Quindi siamo ritornati, come è stato detto più volte, alla necessità di un esercito di massa. Ma non gli 8 milioni di baionette che avevamo nel 1940, ma un esercito di massa, sto parlando per la parte combat, c'è un esercito di massa altamente preparato, altamente equipaggiato, chiaramente che richiede addestramento, caserme per ospitarlo e aree addestrativi, oltre alle munizioni che sembra che oggi mancano. Se noi guardiamo un attimo questo esercito di massa, è chiaro che è composto, o che deve essere composto, seguendo alcuni dei principali paesi europei, da reparti regolari in servizio attivo e anche da riservisti. Qui si entra nel campo dei riservisti. Se voi avete fatto caso, Israele per le operazioni in Gaza ha richiamato 360.000 riservisti. E' uno dei motivi per cui dal 7 ottobre è entrato in Gaza, mi sembra a fine ottobre, ai primi di novembre, che ha richiamato a questi riservisti, gli ha rinfrescato l'addestramento nei combattimenti nei centri abitati, ma soprattutto ha impiegato i riservisti per combattere all'interno di Gaza, tenendo i reparti operativi, cioè quelli in servizio, di riserva per il fronte nord, quindi parliamo del Libano, e per il fronte nord, anche nord-est, parliamo della Siria. Quindi la funzione importante dei riservisti combat, cioè che sappiano combattere. Israele è chiaramente tutta un'altra situazione, non possiamo equipararla anche l'Italia, ma anche Taiwan, la lontanissima e piccola Taiwan, ai riservisti, perché in caso di conflitto prevede che i riservisti, se non proprio in prima linea, possano assolvere funzioni di controllo del territorio, di rinforzo ai militari che sono già in servizio. E come potete vedere, a noi mancano questi riservisti. Adesso questo è questo military balance di quest'anno. Se voi, io dico solo, prendete la piccolissima Finlandia, 5,6 milioni di abitanti a 238 mila riservisti, 238 mila riservisti che in caso di bisogno, a detta dei loro vertici militari, possono arrivare a ben di più, quindi allargando anche, aumentando anche il periodo di servizio, diciamo di leve. E questo è importante. È chiaro che noi non abbiamo mai avuto come forze armate italiane questa concezione del riservista. Noi abbiamo sempre avuto queste grandi masse di soldati che venivano reclutati tramite il servizio di leva, nella Prima, Seconda Guerra Mondiale e così via. Però forse dovremmo un attimo pensare anche noi ad avere dei riservisti combat, perché quella legge che l'amico Salvatore ha citato, la legge 119 del 5 agosto del 2022, all'articolo 9, Coma D parla sicuramente di riserva ausiliaria. Ma se andate a leggere dentro, questi 10 mila servono per il Covid e per le pubbliche calamità, ma non servono per combattere. Cioè quindi questo è sicuramente un buon inizio, ma speriamo che sia solo l'inizio di questo processo molto difficile, perché è chiaro che non è facile cambiare cultura a una società. Già poche settimane fa sia il Ministro della Difesa che il Capista Maggiore della Difesa in audizione hanno sollevato il problema dei riservisti, al quale noi dobbiamo pensare un attimo. Ma è chiaro che per avere questa componente combat di riservisti serve, come si diceva prima, la volontà politica, le disposizioni discendenti degli stati maggiori, la disponibilità di personale, i tempi e così via, e i centri di addestramento e di formazione. Quindi è un problema adesso che sicuramente i militari hanno già individuato, hanno già sollevato, poi adesso è un problema, come dicevo prima, di volontà politica. Grazie, generale Battisti. Adesso vado dal dottor Favero dell'Associazione Nazionale Alpini. L'Associazione Nazionale Alpini è un importante ponte tra il mondo civile e quello militare. E in quest'ottica in cui stiamo parlando appunto di eserciti di massa, di riportare in servizio persone che abitualmente nella vita fanno altro, che magari hanno avuto già un'esperienza, hanno già vissuto la vita militare, ma magari molti anni fa e poi sono andati appunto a fare altro, tra l'altro professioni, altri tipi di vita. Ecco, intanto volevo chiedere qual è il ruolo, qual è l'importanza dell'Associazione Nazionale Alpini in quest'ottica e in che modo può aiutare a mantenere vivo questo legame e se necessario favorire l'ingresso di persone che appunto hanno scelto di fare altro, l'ingresso o il reingresso di queste persone in servizio qualora ve ne fosse una necessità. Grazie, buongiorno. Allora do alcuni numeri all'inizio, tanto per avere un quadro. Attualmente l'Associazione Nazionale Alpini ha 320.000 soci, di cui 230.000, anzi 234.000 per esattezza, sono ex-alpini, ex per noi è una brutta cosa, non lo uso, alpini in congedo. Gli altri sono amici ed aggregati che sono con noi. Credo che sia un fenomeno del tutto particolare anche all'interno delle associazioni d'arma ed è un'associazione che fin dall'inizio, quando è sorta nel 1919, si è posta, al di là dell'elemento fondamentale di mantenere vivo e alto il valore, il rapporto anche con gli alpini in armi, ciò che continuiamo a fare tuttora con le nostre truppe alpine, anche quello della solidarietà. All'inizio una solidarietà, siamo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, rivolta inizialmente all'interno della propria realtà, quindi all'aiuto delle famiglie dove c'era un alpino, magari la vedo ai figli, ma anche una solidarietà rivolta all'esterno. E un altro degli aspetti fondamentali, quello della tutela dell'ambiente fin da allora, soprattutto dell'ambiente montano. Su questa base poi tutta l'associazione si è sviluppata e direi che al di là della fase tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella ricostituzione e l'informazione dei nostri gruppi, voglio ricordare che abbiamo 4.307 gruppi in tutta Italia e comprendiamo che siamo in tutte le regioni d'Italia, anche se ovviamente le regioni del Nord, l'Abruzzo e il Molise hanno una presenza maggiore, con suddivisi e organizzati in 80 sezioni e poi con la sede nazionale che si trova a Milano. Fin da subito noi siamo intervenuti e abbiamo avuto questa attenzione forte rispetto a quelle che sono le necessità in caso di emergenza e di sicurezza. Voglio ricordare per tutti, quest'anno l'avemmo ricordato i 60 anni, il Vaiont. Nel Vaiont sono intervenuti per prime gli alpini in armi, soprattutto della Brigata Cadore che in quel momento era sul territorio, ma anche gli alpini in congedo. Gli è nata il primo embrione della protezione civile che poi si è rafforzata nel 1976 con il terremoto del Friuli dove effettivamente poi siamo intervenuti in forze come associazione nazionale alpini con 11 campi di lavoro che noi chiamiamo cantieri di lavoro in tutto il territorio che era stato colpito e dove abbiamo gestito qualcosa come invecchialire 28 miliardi datici dal Parlamento americano direttamente in gestione a noi per costruire scuole, asili e case di riposo. quindi una presenza capillare all'interno della realtà del proprio territorio e della propria gente. Questo pian piano si sta un po' perdendo ovviamente dal momento in cui l'elemento che c'era di cardine cioè la montagna ma soprattutto la leva il cappello alpino in testa quando c'è stata la sospensione la sospensione della leva. Ecco, noi crediamo che da un certo punto di vista questo possa essere per carità sotto l'aspetto dell'efficienza una cosa importante oggi ovviamente anche lo stesso soldato deve avere delle capacità professionali e deve avere un aggiornamento costante e continuo per cui pensare che un ragazzo che rimane un anno a fare servizio poi possa continuare a essere aggiornato ecco, può essere valutato però dall'altro lato noi abbiamo perso un riferimento concreto tra il cittadino e le forze armate. Quello che noi continuiamo a insistere e pretendiamo è proprio quel ritorno di questo rapporto perché sentivo anche negli interventi di prima quando ci si preoccupava che la gente non capisce beh, se alla gente non si fa capire la gente non capirà mai e quindi sarà sempre contraria perché per principio parlare ovviamente di guerra è qualcosa di brutto parlare di pace è qualcosa che soddisfa a tutti ma la pace noi siamo convinti che è qualcosa che si ottiene come è stato detto giustamente prima se si ha sicurezza se il cittadino per primo coglie questo aspetto e dall'altra parte chi avesse velleità nei nostri confronti capisce che questa sicurezza è tale da garantire questo è quello che oggi manca il motivo per cui secondo me anche le ultime guerre al di là dei fatti economici sono scoppiate è questo su questo sicuramente un recupero dei giovani per fare in modo che tornino che capiscano e inseriti come proponeva prima anche il generale Farina inseriti e addestrati a fare delle attività che sono sia quelle con l'uso delle armi e c'è un certo tipo di riserva ma anche quelle di supporto quando io ho fatto il servizio di leva non c'erano cooperative esterne che facevano la pulizia o da mangiare non c'erano cooperative esterne che facevano e sistemavano ho sentito dire prima i carri armati che non erano sistemati era tutto all'interno perché da quell'anno uscivano anche di ragazzi che prima non sapevano ma prima o poi si sono formati sono diventati meccanici elettricisti hanno imparato anche un mestiere hanno imparato qualcosa ecco noi vorremmo e la legge la 119 su quell'aspetto che prevede la logistica e la protezione civile sta in quella esigenza che noi come associazione ci eravamo fermati di chiedere ai politici ecco di fare entrare in questo sistema anche questa realtà anche per evitare un altro aspetto che giustamente io sento la componente militare che giustamente si lamenta del fatto che vengono impiegati dei militari che dovrebbero essere preparati specializzati in strade sicure questo tipo di ragazzi potrebbero anche garantire quell'aspetto di sicurezza interna e quel modo di operare però inquadrati in termini militari inquadrati all'interno delle proprie realtà capaci di rispondere su questo noi da ormai 20 anni per i ragazzi fino ai 14 anni facciamo i campi scuola da qualche anno a questa parte abbiamo voluto come sede nazionale anche con un impegno economico non marginale fare dei campi scuola per ragazzi dai 16 ai 25 anni per capire la risposta per capire se c'era questa disponibilità e devo dire che la disponibilità è grande tant'è che io sabato avrò una riunione in consiglio per stabilire il numero perché l'anno scorso con 600 posti disponibili dopo due giorni di collegamento internet i posti erano esauriti e questo ci dispiace perché così non siamo capaci di rispondere però per dire che i giovani di oggi non è vero che non siano disponibili e attenti dobbiamo fare in modo di portarli a capire e ragionare sul fatto che impegnarsi per gli altri è qualcosa di positivo e soprattutto per farlo e questo è un altro degli aspetti su cui io insisto in una prima fase almeno per un primo periodo che sia di tipo militare che sia di tipo civile ma un periodo dei giovani fatto a favore degli altri e a favore della società gratuitamente è qualcosa che insegna a loro un senso di dovere e un senso di appartenenza quindi di identità ciò che oggi nel nostro paese manca veramente io sono preoccupato al di là delle guerre esterne se permettete del fatto che stiamo perdendo valori e identità queste sono cose fondamentali per poterci chiamare popolo per poterci chiamare patria e poterci con orgoglio chiamare Italia grazie grazie dottor favero faccio io una prima domanda facciamo un rapido giro tra gli speaker e poi passiamo le domande del pubblico ecco diciamo di un certo livello vista l'esperienza appunto dell'Ucraina in cui la guerra è scoppiata quasi all'improvviso e su un fronte molto esteso operativamente in quante settimane o quanti mesi diciamo persone prese dalla vita civile sarebbero in grado di essere in qualche modo operative sul campo giusto così una suggestione lampo la risposta più breve è questa dipende dipende che incarichi che mansioni eccetera faccio un esempio un operatore ucraino che è stato addestrato per operare sull'antimissile Sampti di produzione franco-italiana in dotazione dell'esercito italiano non so quanti mesi di corso sta facendo a Sabaudia sono mesi e mesi quindi non si può dopo aver fatto tutta la parte basica di soldato in grado di sparare imbracciare il fucile eccetera eccetera vestire l'uniforme quindi dipende che tipo di non si può pretendere che chiaramente questa riserva esiliare possa fare delle cose chiaramente se ci sono quelli che già hanno prestato servizio allora è più facile allora tu sei uno specializzato un pilota carri un capo carro oppure anche un artigliere insomma che è addetto al PZH 2000 o altri sistemi sofisticati che all'esercito italiano poi salvo un aggiornamento poi continuare a farlo ci sono degli altri incarichi che comunque la tecnologia della guerra moderna anche il FANT diciamo semplice con tutto rispetto che diciamo la parte più importante del combattimento è l'uomo che sta sulla front line se ieri aveva il moschetto l'elmetto il fucile e poi è arrivata la maschera adesso c'è i visori notturni c'è la radio c'è la trasmissione dati c'è il collegamento col minidrone quindi voglio dire ci vuole per fare il vero combattente ci vuole molto tempo però questa riserva poi dopo siccome le emergenze non vengono mai dalla sera alla mattina se poi dopo bisogna costruire un qualcosa ci può essere il tempo per andare a specializzare a garantire un ricambio di chi è già preposto e sono i professionisti poi c'è tutta un'altra categoria che sono quelli lì tra virgolette più addetti ai servizi generali alla logistica che sono facilmente reperibili un conduttore bravo nell'ambito civile un conduttore di automezzo di un autocarro più o meno bravo anche in ambiente militare che sono più facilmente sostituibili come altri incarichi che voi immaginate amministrativi logistiche quant'altro che sono più facilmente diciamo così sostituibili e per altri bisogna bisogna avere molto tempo però voglio ritornare a quello diceva anche il presidente Favero prima avendo una possibilità di addestrare di base dei ragazzi per tre mesi e dargli un grande inquadramento e poi dopo ogni anno richiamare fare delle esercitazioni comuni ad altri reparti che sono super professionisti ecco perché è importante colocarli e non lasciarli diciamo beh tu senti si è messa la divisa poi va lì e c'hai l'arma vecchia il Garand della seconda guerra mondiale tutto quanto e no non è così cioè affiancati ai professionisti hanno più possibilità di essere poi integrati ad eretti però ecco per gli grandi specializzati e per tutti i sistemi d'arma sofisticati che vi più entreranno ci vorrà poi molto tempo per questo è il mio punto se fossimo l'improcento di perdere la guerra come la difesa di Berlino dei tedeschi nell'aprile 45 basta un giorno gli si dà il fucile gli si insegna come spare e va bene ma se se parliamo oggi di operazioni anche di bassa intensità come poteva essere la controinsorgenza in Afghanistan o in Iraq servono comunque quasi due anni quando siamo andati con l'operazione Nibio nell'ambito dell'operazione a guida americana Enduring Freedom i miei alpini dovranno avere almeno 20 mesi di formazione circa due anni perché come si diceva gli equipaggiamenti la capacità dell'avversario bisogna comunque cioè bisogna non sottovalutare la capacità dell'avversario ed essere in grado di utilizzare appieno questi equipaggiamenti se noi facciamo l'ine esempio uno dei problemi di questo stallo nell'offensiva ucraina di questa estate è stata che la preparazione che gli è stata fornita soprattutto in Gran Bretagna o anche in altri paesi occidentali è stata troppo serrata per cui questi ragazzi questi ragazzi avevano anche 50 anni non erano in grado poi di operare in modo come si può dire adeguato faccio solo un esempio gli artiglieri che dovevano operare con questi pezzi da 155 gli facevano un corso di accelerato di tre settimane e mezzo quando un artigliere americano che ha già la preparazione di base quindi la preparazione di base per diventare artigliere specializzato deve fare almeno sei mesi per dire e dopo succede questo insomma quindi è chiaro che se stai perdendo la guerra prendi tutto ma se se c'è la possibilità di di prevedere allora uno si organizza perché voglio dire nessuno nessuno di noi ama mandare dei soldati allo sbaraglio perché sono sempre i nostri i nostri i connazionali e anche i nostri figli cioè noi chiediamo con forza lo abbiamo sempre chiesto proprio richiamando l'articolo 52 della nostra Costituzione dove voglio ricordare che ci sono due paroline che messe insieme non sono mai più state usate nella Costituzione dovere e sacro sacro dovere del cittadino sacro dovere del cittadino e la difesa della patria cioè vuol dire la difesa dei valori di tutto ciò che patria vuol dire e allora noi ci rendiamo conto che da un lato l'ho detto nel mio intervento di premessa ovviamente l'abbiamo sentito sia da generale Farina che da generale Battisti che ovviamente la preparazione l'uso di determinati tipi di armi anche delle armi più semplici oggi chiede una forte preparazione e questo è un lato ma l'altro lato che lo Stato se permettete parlo di Stato non voglio parlare di politica parlo di Stato in questo momento ha abbandonato con quella sospensione si è dimenticato è questo è quello di fare in modo che il cittadino abbia questo senso del dovere qui oggi ultimamente sentiamo parlare solo di diritti ma mai di dovere il senso del dovere che vuol dire anche il rispetto degli altri appunto quel senso di attenzione e quella capacità di saper dare che ogni ragazzo se noi lo stimoliamo ce l'ha dentro poi ci sarà come sempre una percentuale che va da un'altra parte ma questo è normale io credo e sono convinto e il test che noi stiamo facendo nei campi scuola con quei 600 quest'anno addirittura siamo stati a fare i 700 ragazzi dimostra questo quei ragazzi poi sono pronti disponibili e sono capaci di dare questo per lo Stato se permettete è un grande guadagno altro che un miliardo due miliardi è un grande guadagno perché permette di mantenere quelle identità e quei valori che ci sono propri altrimenti fra qualche anno e l'ho scritto nel mio editoriale che andrà nel prossimo alpino con gli auguri di Natale altrimenti fra qualche anno ci sarà qualche altra civiltà e qualche altra società che ci prevaricherà e alla grande grazie 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 a tutti